l'intervento del nostro amico Carlo Vittorio Giovannelli e l'abbiamo intitolato nel nome del padre sì io mi proporrei di invertire questa questa narrazione con il nome dei figli perché il problema dei padri separati sembra visto dal dall'esterno e anche visto dal dritto sembra un problema dei padri invece in realtà è un problema dei figli eh Giovannelli è con noi? Sono sempre più trascurati dalla giurisprudenza buongiorno a tutti, buongiorno a tutti i tuoi ospiti. Allora diciamo Giovannelli è un fa tante professioni e anche un conduttore televisivo infatti vedi che ha chiamato telespettatori e hai ragione radio e in realtà fa un mestiere particolare puoi fa un'attività in particolare puoi spiegarcela? Io sono un coordinatore genitoriale sono un professionista che usa il metodo della coordinazione genitoriale quindi è una figura che è emersa recentissimamente dopo la riforma Cartabia. Allora è stata introdotta nella riforma Cartabia come eh un passaggio dovuto cioè anche le coppie che si separano in maniera consensuale devono scrivere un documento che si chiama proprio eh un è un documento genitoriale eh dove si impegnano a prendere degli accordi di massima per i figli. Eh nella maggior parte dei casi il coordinatore genitoriale è eh diciamo una figura eh un ADR quindi una eh eh un tentativo di risoluzione alternativo della disputa eh ed è focalizzato sui figli. quindi incontro i genitori cerca con loro una negoziazione eh in cui loro da soli arrivino a un accordo su tutto quanto non deciso dal giudice e eh per il bene dei figli. Quindi sono d'accordo con nel nome dei figli e eh non nel nome del padre no? Perché è sicuramente una delle eh attività principali che vengono fatte fuori dal tribunale eh dove si mette veramente al centro il bambino, le sue esigenze, il suo benessere, la sua crescita. Allora noi eh Fabio con Giovannelli e con Arrighi abbiamo diciamo eh ehm ideato un format eh che seguirà per diverse settimane con il fatto che ehm Giovannelli che eh conosce questo questo settore con molta con molta attenzione Alessandro che è un commercialista che anche la figura del commercialista rientra in questa nuova eh quadro delle eh attività volute dalla Cartabbia e ci occuperemo di una decina di casi che stiamo selezionando che ogni puntata approfondiremo racconteremo sette, otto, dieci storie di padri e delle situazioni veramente drammatiche nelle quali sono trovati. Questo per eh comunicare, per far capire la dimensione di questo problema. Che dimensione ha questo problema Giovannelli? Beh la dimensione è è addirittura preoccupante nel senso che eh oggi eh non si può più parlare di famiglia tradizionale ma nella stragrande maggioranza dei casi nella maggior parte dei casi si parla di famiglie allargate. Eh è cambiato la nostra cultura, è cambiato eh il modo di interagire nel nell'ambito famiglia però eh tante cose ancora vanno fatte, vanno eh gestite per arrivare a un punto di equilibrio dove eh la base non sia il conflitto ma sia invece la serenità, l'accordo e la possibilità. Diciamo che questa iniziativa è fatta col giornale radio eh coinvolgerà anche eh ZTL e il programma di Cappi e saremo trasversali con questi casi e perché sono tanti e non li presenteremo solamente noi. Alla fine di questo percorso faremo un libro e poi se riusciamo anche un piccolo documentario che sono appunto la mia passione per lasciare forte la memoria su questo argomento. Fabio? Questa task force che vogliamo mettere in piedi è paragonabile alle alle forze di pace delle Nazioni Unite perché vista la conflittualità genitoriale ho l'impressione che ci dovremmo vestire da caschi blu per questa per affrontare questo tema. Speriamo un po' meglio delle forze perché non è che siano molto efficaci ultimamente. Speriamo che far conoscere in maniera diciamo laica eh lineare casi possa diciamo secondo me eh attenuare luoghi comuni superficialità che su questo argomento sono veramente intollerabili perché in gioco non ci sono i diritti dei padri ma i diritti dei figli. Ehm giovanelli abbiamo. Posso aggiungere una cosa? Allora eh noi ci troviamo di fronte anche eh ad eh un eh atteggiamento infantile cioè che cosa contraddistingue un un bambino un adolescente un ragazzo da un adulto. La capacità di gestire le proprie emozioni. La conflittualità nasce soprattutto perché non si gestiscono queste emozioni. Non si sa gestire la rabbia, non si è imparato a gestire eh il rancore e di conseguenza questo in genere un meccanismo eh eh devastante di di spetti eh di accentuazione di di conflitto che porta inevitabilmente a eh situazioni allucinanti. Allucinanti. Papà che non vedono più i figli eh madri o padri in alcuni casi eh che che parlano male dell'altro genitore. Figli che soffrono figli che eh eh crescono con una visione di un'affettività distorta e che sarà per loro un grosso problema per il futuro, per le loro future relazioni. Quindi è anche un discorso proprio di maturità. In alcuni casi è eh fondamentale ragionare su sui primordi cioè quindi sulla capacità di discernimento, di capire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, di eh mettersi nei panni dell'altro, che non significa l'altro genitore ma significa il figlio. Bene, allora eh abbiamo aperto questa rubrica, eh Giovannelli ha già pronto il caso che tratteremo la prossima settimana, dobbiamo concordarci con Cappi attraverso Cossu e avremo questo bellissimo palinsesto, ehm Giovannelli e Arrighi che siamo il socio di Giovannelli in questa battaglia, ehm vi dà un appuntamento la prossima settimana. Ciao Giovannelli e alla prossima settimana. Ciao. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, grazie. Allora.